Alzo il pane e poi, rendendo grazie al Signore, lo spezzò e ne diede ai Suoi, e ora mangiate voi. Bevè il vino e poi, disse agli apostoli tutti, anche voi, fate per sempre così, in memoria di me, io non sarò qui. Ma si guarda all'ostia, dentro c'è tutto il Signore, non è soltanto un ricordo, questa è verità, è mistero. Ma se sei sconfitto, e quando ti senti perduto, Lui muore in croce per te, e ti riscatterà, Lui risorge. Oh, Lui risorge per te, Lui risorge. Gli diranno, dai, salva te stesso, Signore, e se il Cristo tu sei, salva te stesso, e anche noi. Gesù, quando tu sarai lassù, ricordati di me, disse sì, Gesù. Ma si guarda all'ostia, dentro c'è tutto il Signore, non è soltanto un ricordo, questa è verità, è mistero. Ma se sei sconfitto, e quando ti senti perduto, Lui muore in croce per te, e ti riscatterà, Lui risorge. Lui Risorge. E tu prega e credi, Cristo ha sconfitto la morte, Qualcuno di te riderà, è successo già, Non importa, ma si guarda all'ostia, E dentro c'è tutto il Signore, Non è soltanto un ricordo, questa è verità, è mistero. Lui risorge. Sì, Lui risorge. La prima della del ingestore. La prima della del ingestore è verità, è verità qualcosa di più alte, La prima del ingestore. Lo sappiamo cosa.